Buongiorno, partenza dal Piglionico, c'è la Pania. Piglionico, è più bellino. Piglionico? Piglionico, senti i rosette così si fa anche dalla parte opposta. Io, Sergio, Giulia. Buongiorno, via. Buongiorno, via. Buongiorno, via. Buongiorno, via. Buongiorno, via. Buongiorno, via. Allora, qua siamo nel vallone dell'inferno. Qualcuno ci rimane. Poi si sotterra nella neve della buca. E' un'altra. E' un'altra. Callare della Pania. L'altro versante, vediamo in fondo il freo, il rifugio. qua, dietro di me, guarda. C'è un animale, penso, sul collo. Allora, qua, questo qua, si vede, buh. Pizzo delle saette. Qua dietro, invece, ora giro, 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 a parte i compagni di viaggio in salita. Qua, dietro di me, la regina che ci aspetta. E vabbè, ora vi faccio vedere di sotto. E' questo qua, il versante versiliese, il freo, il corchia, e via, avanti. Però, laggiù cos'è? Il sagro. E' il sagro? E' il pisanino? Grande pisanino. Grande pisanino. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.